eeeeh, let's gooo point flip and 2x on the top side Jamelski saying hey Larskin please shout out train and uh... train let's gooo how are you doing? cazzo volevo il 10 cazzo ah coin per 2 però, per 2 esotico esotico cazzo ci sparavo troppi in quei 10 beh beh ho paura ho discretamente paura signori miei cazzo 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 cazzo